Scioccante la notizia che arriva direttamente da una fonte interna alla Juve. In arrivo il fallimento che nessuno si aspettava. Guardate tutto il video e capirete il grande rischio a cui è sottoposta la Juventus. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus in campionato sta facendo veramente molto bene a livello di classifica. Si trova infatti seconda appena dopo l'Inter. Inoltre ha una buona prospettiva dinnanzi a sé, data anche l'assenza di coppe europee, che potrebbe forse facilitare la corsa allo scudetto, quantomeno a livello di preparazione fisica. Ormai da diversi anni, la Juve porta avanti parallelamente un progetto, sullo stile di Real Madrid e Barcellona, avendo una seconda squadra professionista, nella quale far giocare e preparare giovani talenti, da lanciare poi in prima squadra. Molto noto e apprezzato l'ultimo talento, ovvero Yildiz. Eppure la realtà che si sta manifestando è molto preoccupante. La Juventus next gennaio si trova in una posizione critica, con il pericolo concreto di retrocedere dalla Serie C alla Serie D. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al futuro del progetto, durante la premiazione come dirigente dell'anno, organizzata da Lussi Piemonte. Manna ha dichiarato in modo inequivocabile, se si retrocede, il progetto fallisce perché non è più considerato professionismo. È fondamentale rimanere nella categoria attuale, ma siamo fiduciosi nel nostro percorso. Lavorare con i giovani comporta inevitabilmente alcuni errori. Abbiamo talenti promettenti, come quelli nati nel 2005, che sono già integrati nella prima squadra. Ad esempio, Yildiz ha segnato un gol contro la Germania, con la Turchia appena 20 giorni fa. Dobbiamo rimanere tranquilli, ma è probabile che intraprenderemo alcune mosse sul mercato per consolidare il nostro progetto. È evidente che una retrocessione porterebbe a un fallimento molto grave del progetto, che avrebbe senso solo se rimane nel professionismo. Queste dichiarazioni aggiungono un elemento di tensione e incertezza al destino della Juventus next gennaio, mentre la squadra cerca di evitare una retrocessione, che potrebbe mettere a rischio il futuro del progetto stesso. Ciao e alla prossima notizia!